eccoci qua ragazzi peccati gli elfi non vanno d'accordo alfa in un po' per gli amici di youtube per voi guardate sembra quasi il guarda per un soldato bello solo il sangue del nemico il resto di lui ha perduto facciamo un giro su questa vero? andai qua la so capire o prevalire le battaglie vengono vinte dal migliore le guerre vengono vinte da chi è disposto a sacrificare tutto per la vittoria che si deve fare? quindi veramente non è finita più per covid insomma anche ad alfa e vanno le vasche di sabbia leggo leggi 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 che lui è l'alfabeto cosa chiede? senza di me o dentro di me la morte è sicura c'è un alfabeto funzionabile ecco santo sorella cerchiamola infatti si è suicidato prima dello sviluppo di internet che per evitare eh comunque santo sorella è furbo eh ha degli occhietti il grande filosofo tedesco schopenhauer diceva hai ragione le lune non sono ma è che si deve fare proviamo ad andare al tempio il tempio oi oi si va al tempio si guardate la realtà delle cose nonostante graffia cesto gioco porca troia cioè il lucido spavimento lucido qui hanno dato la scena diocca diocca nemmeno io quando eh che scelta oppure anche i cerchi d'acqua che li hanno fatto l'acqua mi sembra un po' odiosa con una cosa dell'acqua insomma un po' non è come fare cry 6 mi sono credo sempre un po' di vedere che è successo dai sta pubblicità anche su questi si pigliano soldi ragazzi e si piglia soldi a fare influenza in generale ragazzi stasera c'era Colombini ma la sua guerra era restare viva sopra vivere da sola un mondo spietato ci sono per questo chiesa silvi e brocchi per costruire le lacce aspetta che dove non c'è niente non c'è niente per usare la filipene per scrivere questi romanzi con lui e hai scelto e poi e quindi mi ritogliati no vado a fare la forza di bambini ah lì è alla bandierina questo no 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 inizio artistico non mi puoi imparerare perchè non dico che tu sei un ammetto no la porta blu deve essere questo lì voi scommetto che avete già finito questo gioco ma io mi sono state anche se stufolo spenta ma il 5 spesso il punto è farina hanno coperto il cristallo con quello perchè per impedire i rinforzi e la madonna no no cazzo no marimma buaiola tarottercazzo ma vattene a pia del culo eh ma dai che spettacolo bello 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 ma cazzo insomma ragazzi il copito non è finita lì vogliono per forza farci sta puntura o come mai perchè così vogliono per forza controllarci perchè io non ci sto a questa cosa sono contro a ogni tipo di controllo che vogliono fare i nostri politici se non mi faccio controllare da questi qua possiamo riparare il ponte da laggiù eh i vaccini fanno bene per i due mesi perchè sono tardi e poi dopo vanno a puttana e si si è vista la gente a farsi vaccini poi tutti i saggi rotelli stanno male vogliono così mezzi ritardati magari non c'è non ti può piacere il te sarà pronto eh debuttana